I cittadini ci hanno chiesto di difendere i confini italiani e questo governo non tradirà la parola data. Vogliamo mettere un freno all'immigrazione clandestina? Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni. Mentre iniziano le operazioni di sbarco dalla Geo Barenz, Giorgia Meloni si affida ai social per ribadire la linea dura del governo su migranti e ONG. In tema di sicurezza e contrasto all'immigrazione illegale, gli italiani si sono espressi alle urne, scegliendo il nostro programma e la nostra visione, ha scritto la presidente del consiglio. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una gestione inadeguata del fenomeno, che ha prodotto grandi ed evidenti disagi, hotspot al collasso, sbarchi aumentati, forze dell'ordine allo stremo. E il tutto ha portato a un crescente clima di insicurezza generale. Il nostro obiettivo è difendere la legalità, la sicurezza e la dignità di ogni persona. Per questo vogliamo mettere un freno all'immigrazione clandestina. Evitare nuove morti in mare e combattere i trafficanti di esseri umani. Ha poi aggiunto Meloni. Per poi affermare. I cittadini ci hanno chiesto di difendere i confini italiani e questo governo non tradirà la parola data. Al prossimo episodio Grazie a tutti. Grazie a tutti.